No, sono cambiato a mutanda normale da tanga, quindi senti troppo bene. Perfetto, non avevamo dubbi, la moto è al 100% e il pilota anche. Scatti, quel travestimento sembrava sul podio di gara 1 un artista del sumo, più o meno, è così? Beh, non lo so. Dove l'hai trovato quel costume? Gigante. Il gigante buono che schiaccia tutti gli avversari. Esatto. Grazie a Noruki Yaga. Troppo grande la simpatia di Noruki Yaga. Adesso farei di nuovo il gigante sul podio o cambi qualcosa per festeggiare? Domani vado a Monte Napoleone. A comprare qualcosa per la prossima volta. Sì, a comprare a Monte Napoleone.